Sono molto emozionato perché tutto quello che sto facendo in giro per l'Italia, in giro per il mondo negli ospedali è partito tutto dal Gaslini è stato il primo ospedale a dar credito a quello che volevo fare e sono dei grandi qua, sono dei grandi, sono un esempio di umanità per tutto il mondo, per il mio e è stato un ariete il Gaslini perché ha aperto le porte agli action sport per gli ospedali oggi la giornata è stata meravigliosa, abbiamo saltato, abbiamo portato i bimbi in moto hanno provato le moto della federazione italiana in motociclismo ci sono stati i cavalli, le bici, gli skate, insomma oggi non era un ospedale, era un circo degli sport action quindi grazie veramente di cuore a tutti coloro che credono in quello che stiamo facendo, grazie grazie a tutti